Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di YakaMet No, è loro Lo sono in falocche Ma i signori siamo in casa della coppia che scoppia E oggi giocheremo al famosissimo Mima il film challenge Sono caldissimo ragazzi La coppia è caldissima Siamo pronti per distruggere YakaMet La portiamo a casa Il primo che arriva a 4 punti vince la challenge Durerà un minuto sta challenge Il vero obiettivo è capire se c'è qualcuno vengono subito Partiamo! Vai! Vai! Vai vai! Mi serviva per mimare Ah li facciamo 15 Ok dai vai a mano Mamma ci sono due telecamere Però Rosela puoi stare in mezzo se vuoi Mamma però puoi stare in mezzo Non sapevo dove andare Italiano? In inglese? Ok Due parole Fai qualcosa però Scrivere occhiali Occhiali Una segretaria? Ah l'ho capito io Occhiali Piccone Minatore Ma cosa c***o è Harry Potter? Il parrucchiere Qualcosa sono i parrucchieri? Edormani Forbice? No Intelligente No mi... No ma è scarsissimo No ma io... Eh caldo Finito Ma vaffan... Cos'è? Steve Jobs Io facevo... Ma fammi il telefono Che c***o? Io facevo la mela E il telefono faccio il mio chiamare No Dimmi quando ci sei? Fast and Furious Volare Eh... L'angelo Angelo i demoni No Prigione, manette, galera Bravo Mirko L'ha fatto bene Oddio Beardbox Non lo so Come? Beardbox Oh ma state zitti Ah io ho capito big boobs Pensavo che era una categoria Allora Le ali Le ali Le ali Lucchetto Timer Quanto siamo? Oh scuola Le ali prigioniere Le ali No ma noi non vediamo il timer Le ali libere Le ali liberate Le ali... È finito Grazie per la libertà Cazzo Inglese Quante parole sono? Due parole, ok Anche lui non è molto bravo eh No Diar 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 No, diar Quello con George Clooney Diar Stai sparando Con te devi aiutarlo Tu devi confonderlo Ma che cosa... Come era giallo? Secondo me comunque... Ce l'ho bendato Nero, nero Nero Veramente? Vedo nero Vedo nero Cielo nero Hai i tuoi occhi Puntini Comunque anche lui in affralla Stelle No, 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 lui bravissimo Perché lo sta facendo bene eh Davvero? Colpa delle stelle Colpa delle stelle Sparo alle stelle C'è uno che mitra C'è uno che mitra Granata Lancio Ma cosa sto facendo? Stai sparando Vabbè a fare Star Wars Madonna Guerre stellare Le stelle Beh dai, abbiamo già perso un minuto Non ho minima idea di come fare Vabbè di qualche tipo Cosa sta facendo? Ah tipo un anziano Un vecchietto col bastone E la vecchiaia Il copo di Notre Dame Ehm Il curioso caso di Benjamin Ma io non posso parlare Benjam Eh no Sì non puoi scrivere le lettere Cosa sta facendo? Oh raga c'è uno più scarso di Luca Io non ci voglio credere Io almeno ho provato a fare qualcosa eh Direi che qua siamo al livello più basso Non è possibile non posso farlo E' un paese per vecchi Fai i vecchi E poi fai il no Certo E' straniero Una parola Dai facilissimo raga Hit Si vabbè Come ho fatto il clown Quello mi viene bene Abbracciami Siamo Hit e loro mettono Non è un paese per vecchi Ma come ti ho fatto il clown? Italiano? No Ehm Francese Notare Francese Piscina Che cazzo di lui ha detto Francese Piscina Mare Mare Ehm Oceano Oceano Che bravo che è Che bravo lui eh Contare nell'oceano L'oceano conta Contare per sempre L'oceano infinito Infinito di oceani Famosissimo infinito oceano L'oceano infinito Uno due Mi perdo nell'oceano guardando i tuoi occhi Uno un oceano Ha il tuo stesso problema nel video guarda Si è per quello che ho pensato Volevo vedere se c'era qualcuno come me Quattro cinque Sette Otto nove Dieci oceano Undici Undici Finito Italiano Inglete Quante parole Quante Balla coi lupi Balto Strada Mare Ehm Strada Guaggia Ehm Grattacieli Uuuu Eh Sì vabbè ma sei È un strato Ululato Ululato Il lupo c'è Eh Ok È lì guarda È lì È lì Il lupo Il lupo è lì Il lupo è la strada Il lupo è la strada E il lupo nella strada Ah come se io mi use lo Lo conosco Come no? Famosissimo. Lupo solitario. Ma sei inglese! Ah è vero. Il lupo più famoso. The wolf of the street. Eh sì, vabbè. Di due bene. The wolf of the street. No, no, no. Non è così eh. Quanti secondi? Quattro, tre, due, due. The wolf of the street. Zero. Non è the wolf of the street. No, io veramente, ragazzi, non ho parole. The wolf of the street. Wall Street. Wall, è strada, tu non l'hai messa. No, non l'hai messa. No, non l'hai messa. No, non l'hai messa. Un coniglio che salta. Ok. Ehm. Ho capito. Ehm. Imprigionato. Ehm. Ammanettato. No. Un punto interrogativo. Ma è italiano il... No. E' america, è inglese. Quindi... So il coniglio. Che cazzo. Il coniglio salterino lì. Ehm. Ma che... Ma che film è? Ma che... Guarda che nel forno non valgono. I conigli. Ehm. Bugs Bunny e le tue amiche. Bugs Bunny? No. Space Jam. Ehm. Eh, Space Jam ci sta però. È il coniglio. Sì, perché secondo te te lo dico io. No, vabbè. Beh, ma... Beh, ti puoi... Ma non capisco. Raga, però scusate. Non lo capisco. Questi film sono troppo difficili. Cosa? Qual era il film? Chi ha indastrato Roger. Vabbè, questa è una faccia. Ma scusa, tu mi hai detto in inglese. Eh, italiano. Sì. Io... Un cane che mi... 4 parole. È bellissimo se ce l'ha. Felicità. Perché il cane comunque ti sta... C'è Leo che fa troppo include. Impiccato Ma cosa vuol dire? Morto o no? Vivo Dall'altra parte del marco Paradiso Purgatorio Fantasma Dante della Divina Commedia, come non lo sai? Non è morto Mi devi confondere Ma è vivo Non ti confondono a te Esatto È ferito È ferito Non è proprio morto È felice perché è morto Felicità Felice È troppo bravo a vivare Happiness Non è impiccato Eh, mi spiace La vita è bella Si è buttato Ma come la vita No, vabbè Morto o no? Hai detto vivo No, vabbè Qual era? La vita è bella Ma cosa c***o vuol dire? Io pensavo che si fosse messo la vita al colo Allora Italiano Quante parole? Ok Minchia, cinque sono tante No, le prendi tutte Secondo me ne puoi prendere due Tre To Sole, cielo Sole Il cuore amore Che è? Valeria Rossi Nuvole Dai L'universo L'universo Cielo Sole Sole No Luna Ok È la luna borsa Sì, cos'è? Cos'è c***o? Ma cos'è? Perché? Dai, capiscila Ok Occhio che ti si sposta al gomito Harry Potter Sì, è la pietra piloto Pagli L'ho capito Dai, è facile questo Incantesimo Incantesimo della luna Eh, lupi mannari Luna Che difficile No, mi Dai Salta Incantesimo L'incantesimo La magia nera La magia Ma imitagli il personaggio Mi mali il personaggio Ma non l'ho mai visto Che cosa? La maledizione Ma come non l'hai mai visto? Quello con Johnny De È stato il più bello Del film dei Pirati dei Caraibi Non l'ho visto Eh, l'hai visto? No Due parole in italiano In inglese Eh, giubbotto direi Stai lanciando, amore Parla di moda questo film Sto con il vestilista La prima parola Stai esplodendo La prima parola Parla di moda Eh, due giorni a New York Dentro Inside out A Manhattan Allora Ma che cavolo Stai fa stupito un paio di palle Italiano? Sì Perfetto Quante parole? Eh, la madonna Cinque Cinque parole Allora, se ne prendi tre su cinque Te la do buona Allora, io Tu sei goppo Io Tu sei fuori dalla centra Ciao Io saluto te Io non ti saluto più Basta Perché mi stai sul culo Basta Non ti do più i baci L'ultimo bacio Sì L'ultimo bacio Ma che cosa vuol dire? Noi? Allora, io o tu? Io? Tu 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 A me Non mi vedrai mai più Non mi vedi più Non mi parli più Zitto Non litigate qua però Ciao Cioè Cioè Dillo anche tu? Ti sta lasciando in pratica Sì ma Ah ok Ah pure io Pure aiutare Tu Ah lo capito Tu e me Tu Non starei Tu Non posso dirlo perché Io ti lascerò No Io Io o tu Io quindi Tu Tu Mirko a primavera Se tu mi lasci non vale Se tu mi lasci Adesso l'hai fatto Vabbè me l'hai fatto malissimo Ti cancello Se mi lasci ti cancello Quante parole? Cinque parole italiano Ok Leggere Libro Libro Giornale Girare il libro I giornali Capovolgere Le pagine della nostra vita Madonna Sì 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 È italiano No Due parole Ok Ok Allora Paura Piccolo Bambino Neonato Il neonato Il bambino Italiano Sì dai dai È facile questo Il bambino Non è italiano The children Ok Il bebè Il bebè Il bebè nuovo Mi raccomando Andate a vedere Il bebè A pato Il caso di Benjamin Bebè Due parole Si va a dirgli la prima È quella La prima Bambino Bebè Children Little Lo stai facendo bene Dai è tipo bebè Ma l'ha visto? Ma l'ha visto? Ma Mirko Children Sì No Bebè No Ci sei quasi Sì Ecco Baby 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 No baby driver Ah baby driver Vabbè Non l'hai mai visto Ah ma Dubinare Dov'era Beh raga Baby driver È stato il successo Del 2000 Dell'anno scorso No Io non ci voglio più giocarmi Sono demoralizzata Sono peggio di te È incredibile Una parola Italiano Inglese Dai facilissimo Birdman Premio Oscar Se ho capito Vabbè Allora Da notare Io gli metto i primi Oscar Famosissimi Vabbè Anche loro Mi hanno messo Scusa Birdman Lei l'ha visto? Se mettevo Birdman L'avrebbe sbagliato Hai visto Birdman? Quello è in pieno Seguardo Eh Magliava pure Birdman Non è colpa mia Scusa Mirko Com'è andata la sfida? Beh È andata bene Beh comunque eravamo alla pari Perché eravamo due cani Contro loro due Lasciate un like per questo video Mi raccomando In descrizione trovate il link Di questi due giovani Alice e Mirko Che fanno un sacco di video divertenti Iscrivetevi al canale Se non lo siete Lasciate un like Ma soprattutto Di uiua Mirko Ciao Ciao Ciao